Arrivano le prime colonnine elettriche volute dall'amministrazione locale a Faenza. Sono otto in totale le postazioni individuate dalla Romagna Faentina per il territorio della città Manfreda. A queste si affiancano una colonnina per ognuno degli altri comuni dell'Unione, Bresighella, Casola Valsegno, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo. Le colonnine di Faenza diventeranno operative nei prossimi giorni e i passanti hanno già iniziato a notarne. Le prime cinque postazioni in fase di installazione si possono trovare in piazzale Pancrazzi, lato via Oberter, di fianco all'ingresso del parcheggio, in via della Costituzione, al centro commerciale della Finlanda, in via Roma, a fianco del piazzale della stazione ferroviaria, in via Le Marconi, nei pressi del cimitero e in piazza Ricci, nel parcheggio a fianco degli uffici comunali e della sede centrale delle poste. Per individuare le colonnine sul territorio sarà possibile scaricare un'app per tablet e smartphone. Il dispositivo permetterà anche agli automobilisti di pagare la ricarica al costo di qualche centesimo al minuto. Il bando di gara ridato dalla Romagna-Faentina per l'installazione delle colonnine ha permesso l'esenzione del pagamento della TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai soggetti richiedenti, ai quali spetterà l'onere di installazione l'adeguamento della segnaletica e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Terminata l'installazione, gli impianti dovranno essere allacciati alla rete dell'Ener. Le colonnine elettriche rientrano all'interno del piano per promuovere nel territorio dell'Unione la mobilità sostenibile, il trasporto ecologico e la ecosostenibilità della città.